Oh cielo, mi dispiace per il finale un po' caotico. Beh, ne farò un'altra e poi farò i bagagli. Signore, finisca ad essere tardi. Ti metti anche a fare le battute? Vuoi fare stand-up? Devo avvertire i clienti? Non sto scherzando, Tony. Ti voglio bene, ma non... Non fai ridere, mi spiace, non sei divertente. Sono stanca, ho fatto una gaffe. Onestamente, il mese prossimo, se tornerai, dovrai darti una mossa, cantare con più forza, perché io li vedo i clienti e... Si annoiano? No, non saprei, sono distratti. Non farmi dire cose che non voglio. Trovati un'altra playlist. O cambia stile, puoi cambiare stile, no? Sì, sì, posso farlo, certo. Ti ho offesa? No, certo che no, è solo... che forse non ho più niente da dare. Ci sono migliaia di canzoni. Chiedi ai tuoi figli cosa ascoltano, ti stupirai. No, non sto parlando delle canzoni. E di cosa? Di te come cantante? Chi canta non smette mai toni, canta per tutta la vita. È come per gli attori o per i pittori. Avranno sempre qualcosa da dare. È la stanchezza che parla, siamo tutti stanchi. E gennaio è un mese di merda, ho ragione o no? Sì, hai ragione. Buon rientro. Dai un bacio ai piccoli. Sono cresciuti. Stai dicendo che stiamo invecchiando? Buonanotte. Buonanotte.